Piano inclinato Parallelogramma delle forze Questo apparecchio permette di eseguire diverse dimostrazioni relative alle leggi della meccanica e alle macchine semplici come pulegge, leve, ecc. Il piano inclinato è una macchina semplice, composta da un paio di binari sui quali scorre un carrello. Questo è attaccato ad un peso tramite una funicella che passa su di una puleggia. Con il piano inclinato è possibile studiare le condizioni di equilibrio del carrello e del peso. L'equilibrio può essere raggiunto aggiungendo sul carrello un peso addizionale, ma viene rotto quando ad esempio si diminuisce l'inclinazione del piano. A questo punto un peso minore posto sul carrello permette di ristabilire l'equilibrio fra le forze. Una seconda disposizione dell'apparecchio permette invece di studiare la composizione delle forze. Due pesi vengono attaccati ad altrettante funicelle che passano su una coppia di pulegge fissate al telaio che compone l'apparecchio. Si aggiunge un terzo peso e si ottiene la posizione di equilibrio. Si inserisce poi nel telaio un parallelogramma articolato i cui bracci vengono orientati in modo da essere paralleli alle corde recanti i pesi. Un goniometro permette di misurare gli angoli fra le funicelle e la verticale. Un'asta divisa viene inserita nel telaio articolato e con essa è possibile determinare la forza risultante dalla somma dei due pesi. In questo modo il telaio articolato viene a rappresentare il parallelogramma che permette di determinare la somma delle forze. Grazie. 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 Grazie.